Siamo un'azienda che produce dolci tipici siciliani in modo artigianale, principalmente paste di mandorla, le loro varietà al pistacchio, all'arancia, al limone tradizionale, poi produciamo il croccante di mandorla e pistacchio o di arancia e limone. Tutti i prodotti vengono realizzati manualmente senza l'utilizzo e l'impiego di macchinari, tutte le materie prime sono materie prime di provenienza siciliana per quanto possibile, la lavorazione è eseguita seguendo le regole della tradizione della pasticceria siciliana in quanto veniamo da una tradizione di circa 40 anni con la pasticceria che abbiamo a Francavilla di Sicilia in via Vittorio Emanuele che è aperta dal 1972. Abbiamo una produzione sempre di biscotti tradizionali come i piparelli alla mandorla, i piparelli al pistacchio, biscotti di Napoli, comunque sempre prodotti della tradizione. Il target del nostro prodotto è la piccola distribuzione, quindi le botteghe specializzate nei prodotti tipici locali o le salumerie che hanno dei prodotti particolari, un po' più di nicchia, quindi le tavole di chi ama il gusto un po' di una volta, il gusto più tradizionale. Grazie. 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 Grazie.